bruschetta i funghi e non aggiungo altro vediamo come realizzarla bruschiamo il pane per sapere come si fa vatte a vedere uno dei miei video stropicciamolo con l'aglio indispensabile per una buona bruschetta ed aggiungiamo i funghi precedentemente cotti e tagliati a pizzetti aggiungiamo del sale in fiocchi dell'ottimo olio extravergine d'oliva qualche fogliolina di prezzemolo ed ecco la nostra bruschetta pronta per essere gustata perfetta per accompagnare una vellutata di verdure se la ricetta ti è piaciuta clicca su mi piace e iscriviti al canale alle prossime ricette del gatto